e anche se aspettiamo tanto ci sono filmato che è finalmente finito wow fa vi sentire sulle parole Non siamo strumenti del governo, o di qualcuno altro. L'arrivo era l'unica cosa, l'unica cosa in cui ero buona. Ma almeno... ...l'arrivo sempre per quello che credo. Snake! Farewell. BOTS! Bologna! Bologna! Quando la morte non trattata... ...la battaglia è decisiva! Bologna! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.